Abbiamo avuto anche noi i nostri periodi in cui ci hanno censurato e magari volevi ti incuriosire ancora di tutto, ma allora spiegare che quello lì non è l'amore, quella violenza lì non è la violenza, cioè la violenza è violenza, l'amore è l'altra cosa. Andare con una ragazza è un conto, andare con una donna che ti fa soltanto far contento in quel momento è un'altra cosa, è difficile dirlo, è difficile farlo capire, però ci si prova oggi, domani, oggi, domani, piano piano.